buonasera e benvenuti in questo speciale di mi manda dedicato alla sonrio tirano abbiamo già denunciato il vergognoso stato in cui versa con soli 9 treni regionali al giorno al posto dei precedenti 19 ma dobbiamo stavolta lanciare una proposta un orario che preveda corse ogni due ore più intense nelle fasce pendolari ovvero alle 5,6 e 7 alle 18 e 19 un servizio presentabile è al servizio di un'alta valtellina che non merita altro isolamento che infatti viene ad incrementarsi col taglio alle ferrovie inoltre alcuni treni presentano un taglio alle fermate che però penalizzano la stessa utenza che si ritrova meno stazioni fruibili e che dunque scende ha espresso il proprio disappunto nel 2014 epoca degli ultimi anni anche la fit cgl che ha introdotto un interrogativo dinanzi a questo taglio lanciamo un appello alla regione lombardia affinché si occupi di una ferrovia tanto bistrattata negli ultimi anni grazie per averci seguito e buona serata